Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale YouTube di ACMilaneInside. Quest'oggi in questo nuovo video andremo a trattare, ad argomentare ed approfondire quello che è il progetto La Cattedrale di Populus che ospiterà le partite casalinghe in campionato in Europa di Milane Inter dal 2027. Prima di iniziare però vi invito a lasciare un like, un commento, di iscrivervi al canale ed attivare la campanellina affinché voi possiate essere sempre aggiornati sui contenuti che porteremo qui sul nostro canale. In più, in descrizione troverete anche i link dei nostri profili social di Instagram, Facebook e Twitter, ma anche il nostro sito internet www.acmilaninside.com. Milane ed Inter, lo scorso 21 novembre, hanno annunciato che il concept presentato dallo studio Populus denominato La Cattedrale è stato quello prescelto da The Club. La Cattedrale vuole rappresentare un'icona celebrativa del patrimonio artistico della città. Il progetto si ispira infatti a due degli edifici più rappresentativi del capoluogo Lombardo. Il Duomo è la Galleria Vittorio Emanuele e porterà alla realizzazione di uno stadio unico e impossibile da confondere con altri nel mondo. Vari sono stati i progetti presentati a Milane ed Inter, ma anche allo stesso comune di Milano, ma Populus è stato il prescelto. Populus comunque ha un trascorso importante dal punto di vista di impianti sportivi. Infatti ha realizzato moltissimi stadi tra cui Wembley, l'Emirates Stadium, il Tottenham Hotwood Stadium di Londra, ma anche lo Yankee Stadium di New York, aggiungendo poi altri vari impianti sportivi per le Olimpiadi di Londra del 2012 e per le Olimpiadi di Sydney del 2000. Il progetto si propone di dotare Inter e Milan di una struttura all'avanguardia per innovazione ed ecosostenibilità. L'impianto infatti è inserito in un contesto di verde urbano e sarà completamente a impatto zero certificato LEED grazie ai migliori materiali e alle più raccate tecnologie di risparmio idrico ed energetico impiegate all'abbattimento delle emissioni acustiche. Secondo molti sportivi, seguendo anche una serie di dichiarazioni anche di ex giocatori di Inter e Milan, tra i quali Ambrosini, tra i quali Costa Curta, andare incontro alla costruzione di un nuovo stadio risulterà essere fondamentale per entrambi le squadre, proprio per fare un passo in avanti e modernizzarsi. Ecco, anche perché il San Siro è uno degli stadi più antichi in Italia e il San Siro per il suo fascino, per la sua bellezza, non sarà mai dimenticato, ma entrambi i presidenti, Zanghi e Scaroni, hanno affermato che uno stadio del genere per queste due società è necessario, è fondamentale. La delibera di pubblico interesse emanata dal Comune di Milano lo scorso novembre prevede, oltre alla costruzione del nuovo stadio, anche è però la riconfigurazione dell'area dove attualmente sorge il Meazza, attraverso la creazione della zona di San Siro di un distretto per lo sport e il tempo libero. Addirittura il Comune di Milano provvederà alla costruzione di un parco pubblico di circa 50.000 m2 di verde filtrante, nonché un'ulteriore significativa riduzione delle volumetrie accessorie, fino al limite previsto del piano di governo del territorio. Essenzialmente l'area dove sorgeranno il nuovo stadio e il nuovo distretto sarà interamente pedonale, con circa 110.000 m2 di aree verdi, ovvero il 40% dell'area. I parcheggi, che rappresentano attualmente il 27% della superficie dell'area, saranno invece totalmente interrati con assenza di parcheggi di superficie. AC Milan e Inter, quindi, confermano la loro volontà di voler avviare a Milano un progetto di eccellenza che generi nuovi posti di lavoro, migliori un'importante area urbana della città e offra al quartiere un nuovo parco pubblico di oltre 50.000 m2, come abbiamo detto in precedenza. Il progetto poi rappresenterà quindi una straordinaria opportunità di rilancio per la città di Milano e per il calcio italiano. Bene, questo era una sorta di mini riassunto di quello che è il progetto di Populus, di quello che è il progetto accettato dal Comune di Milano, da Milano ed Inter, dopo anni e anni di trattative. Finalmente Milano ed Inter avranno quello che volevano, ovvero un nuovo stadio, che come potrà essere fondamentale per le casse delle società in primis, ma soprattutto anche per una modernizzazione delle stesse. Anche perché in Italia gli stadi e gli impianti del genere sono poco valorizzati. Milano ed Inter continueranno ad avere comunque uno stadio che è in mano al Comune, ma penso che questo possa essere un primo passo verso una futura acquisizione dello stesso impianto. Attualmente in Italia sono pochissime le società che hanno stadi di proprietà, rispettivamente, se non erro, Sassuolo, Udinese e Juventus. Ma comunque il Milan, insieme al Comune di Milano, insieme anche all'Inter, hanno mostrato la volontà di dare anche uno sprint in più al calcio italiano, abbandonando il Meazza, che è il Meazza o San Siro, qual si voglia chiamarlo, che è un impianto, se non l'impianto più importante presente attualmente nella penisola italiana, per affacciarsi in quella che è la novità, in quello che è il futuro. Ovviamente da tifosi del Milan c'è sempre la parte romantica di noi che non vuole abbandonare il San Siro, soprattutto per le varie esperienze vissute all'interno di questo, passando dal ritorno in Champions di quest'anno, arrivando alle partite memorabili contro l'Ajax nel 2003, contro lo United nel 2007, ma anche i vari derby, l'11 mangio 2001, i vari derby vinti nei corsi degli anni. Però la parte razionale di tifoso milanista mi fa pensare che questo passo possa aiutare il Milan in primis, poi ovviamente anche l'Inter, appunto, come abbiamo detto, a dare a passo con le altre squadre nel contesto europeo. Anche lo stesso Real Madrid quest'anno ha iniziato i lavori per un nuovo sentiero Bernabeu, il Barcellona è prossimo ad iniziarli per il Camp Nou. Quindi penso che l'Italia, da questa mossa di queste due importanti società, debba iniziare a capire che deve anch'essa modernizzarsi, deve anch'essa avere questo sviluppo che le manca e le fa rimanere sempre molto arretrata rispetto alle altre nazioni, ovviamente adesso stiamo parlando sempre nel contesto sportivo-calcistico. Quindi credo che uno stadio nuovo possa essere fondamentale, possa essere necessario per far riacquisire al calcio italiano, ma anche a società come Milan ed Inter, che negli ultimi anni non hanno brillato, a riacquisire quel fascino ecco, che è stato perduto in questi anni. Anche lo stesso Paolo Schiaroni, in un comunicato ufficiale del Milan e lo stesso Milan sul proprio sito, ha affermato che questo stadio, con questo progetto potrà diventare uno degli stati più belli del mondo. E niente, per oggi è tutto, mi auguro che questo approfondimento su quello che il progetto Populus possa esservi piaciuto, possa aver risposto a tutte le vostre domande, a tutte le vostre curiosità. Ci vediamo in un prossimo video e sempre Forza Milan!